La variante Delta in Cina ha raggiunto già una ventina di città, tra cui Pechino, che ha inasprito i controlli riprendendo i test Covid a tappeto. Spaventa il moltiplicarsi di focolai, spaventa l'importazione del virus dall'estero. Per questo è stato messo su un pacchetto di misure che impone restrizioni ai controlli sugli spostamenti. È stata rinviata l'apertura delle scuole. Il paese ieri ha registrato altri 98 casi di Covid-19, 55 locali e 43 provenienti dall'estero. Dato che comunque segna un record nei massimi giornalieri dell'anno. Solo nelle regioni di Hong Kong, a Macao e a Taiwan sono oltre 27.000 i casi confermati. Stesso problema in Giappone, dove la curva tende solo ad alzarsi. Anche lì l'allerta è alta. Il ministro della Sanità giapponese ha lanciato un ulteriore appello alla popolazione affinché si astenga da comportamenti a rischio contagio. Il paese intanto registra ogni giorno record di positivi. Tokyo, dove in questo momento si stanno svolgendo i giochi olimpici, rimane la città più colpita. Ieri i test hanno portato alla luce oltre 3.000 casi solo nella metropoli, 12.000 nel paese. Il Giappone l'anno scorso ha gestito abbastanza bene la pandemia, ma adesso con le Olimpiadi in corso la situazione è delicata. Tanto che venerdì scorso il governo ha esteso lo stato di emergenza a Tokyo e in altre aree. A pesare inoltre il ritardo col quale è partita la campagna vaccinale nel paese, è iniziata infatti solo a fine febbraio. Il ritmo delle vaccinazioni adesso è abbastanza intenso. Si somministrano circa un milione di dosi al giorno. Obiettivo del governo è quello di raggiungere una copertura totale entro l'autunno.